Si è svolto nei giorni scorsi al porto di Ravenna un trasporto via mare davvero eccezionale ed inedito, che ha visto il trasferimento e il posizionamento di un imponente capanno da pesca del peso di circa 60 tonnellate trasferito dall'interno del porto fino all'esterno della diga foranea sud di Marina di Ravenna, per poi essere posizionato con precisione su tre enormi piloni in cemento. L'intera operazione è stata organizzata e condotta da Italteam Shipping, agenzia marittima di Ravenna che da decenni si occupa di tutte le soluzioni per il trasporto via mare, comprese le attività di project cargo come questa ed è stata resa possibile grazie alla partecipazione attiva della Capitaneria di Porto di Ravenna, dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Centro Settentrionale, della Compagnia Portuale di Ravenna, del Corpo Piloti del Porto di Ravenna e in particolare del loro comandante capo pilota Roberto Bunicci. Si è trattato di una procedura davvero complessa sia per il basso fondale sia per le delicate fasi delle operazioni di messa in opera, che hanno richiesto una serie di particolari manovre, sincronizzando il movimento di due grandi gru da 120 tonnellate con spostamenti millimetrici compiuti dalla grande nave olandese Atlantic, gestita in Italia dalla Ocean 7 Project Italy. Tutte le parti della spettacolare operazione si sono svolte nella massima sicurezza e nei tempi previsti, con grande soddisfazione di tutte le figure coinvolte. La ITAL Team è un'agenzia marittima, ship management e crew management di Ravenna. Tra le sue attività si occupa di Project Cargo. È stata individuata una nave idonea che ha permesso di fare queste operazioni, soprattutto per l'installazione. Le operazioni si sono svolte nei tempi previsti con un ottimo risultato.